Mi trovo qui con Enrico Dago, responsabile provinciale del CSI, che ci farà un bilancio dei regionali che per la nostra provincia sono risultati molto positivi, giusto? Sì, le nostre due squadre che si erano qualificate per le fasi regionali, Pesce d'Oro e Divin Porcello Juve Domo, hanno passato il primo turno e adesso domenica a Novarello disputeranno in mattinata le due semifinali e speriamo che nel pomeriggio riescano poi anche a disputare la finale, insomma, quindi incrociamo le dita e speriamo in bene un grosso in bocca al lupo a tutte e due. Grazie, grazie per la disponibilità.